Ciao ragazzi e ragazzi, volevo girare il video di Top di Flop in collaborazione con Antonella MyBlondi66. Ciao Antonella, un bacio. L'abbiamo fatto un po' in ritardo, però io lo volevo fare con lei, quindi ho aspettato tanto non fa niente una settimana dopo. Allora, volevo cominciare a farvi vedere tutti i prodotti Top. Allora, come prodotto Top, il primo prodotto che voglio farvi vedere è questo ombretto che comprai da Roberta Amen di La FM ed è veramente bellissimo. Questo qua è un ombretto minerale, sarà il colore che io adoro. Guardate com'è bello, è un Tiffany davvero bellissimo. Guardate che bello, ma sull'occhio è stupendo proprio. Poi dura un sacco, cioè gli ombretti minerali sono bellissimi, cioè perché l'occhio non si appesantisce, ma è stupendo veramente. Poi questo colore lo adoro proprio. E quindi questo qua è un prodotto Top. Poi, un altro prodotto, cioè non è un prodotto, è un oggetto che sto usando tantissimo, che sto usando veramente tanto, è un portapenne. Allora, è questo qui. Guardate che carino. Allora, questo qui io lo tenevo già da un sacco di tempo, lo comprai da più di un mese fa, se non sbaglio, anche un mese e mezzo. Lo tenevo buttato nel cassetto. Dovete sapere che io perdo, cioè qua dentro per esempio, dentro al portapenne, ho un... non si sa come mi spariscono le penne. E infatti Davide dice, ma è possibile che ci vuole un tabaccaio di penne? Allora io trovai questo portapenne che era troppo carino, lo pagai 5 euro da buffetti, vi sto dicendo un sacco di tempo fa, ed era pure l'ultimo. Però me ne ero proprio dimenticata. Ora ho messo a posto tutti i castetti ultimamente e l'ho rivisto. Ho detto, ora sai che faccio? Metto le penne qua dentro. A me piacciono molto perché siccome ho fatto anche... ho sistemato la mia agenda, ho messo un poco a posto, a me io adoro le penne della Filofax perché si cancella. Poi sto seguendo molto il canale di Elenia, una youtuber famosissima e di... è pure un'altra ragazza che fanno queste organizzazioni che, diciamo, mi stanno abitando veramente tantissimo. Perché sono molto disordinata. Però quando questi canali di organizzazioni mi piacciono tantissimo. E quindi da quando io ho messo questo astuccio sulla scrivania, sulla scrivania, io mi trovo veramente sempre le penne. Poi vedete qua come ho sistemato carino, guardate. Qua è la mia postazione dove faccio i video. Vedete? Guardate come ho sistemato. Però sinceramente i trucchi li ho tolti. Li ho tolti da qua. Tenivo le vaschette qua e qua ma non mi piace perché... non mi piace perché era troppo incasinato perché quello il soggiorno è piccolino. Perché poi c'è il tavolo dove mangiamo il soggiornino. E quindi è qua dove giro i video. Dove mi metto col computer. Infatti avevo il computer aperto. Allora, e niente. Quindi questo è un altro prodotto top. Ora non potrei stare senza questo astucino perché so che le penne stanno là dentro. A parte che tengo pure questo qua dove ho messo il pennarello che uso spesso. Questo qui è una penna a volo. Ma non c'ho più tutte quelle cose che avevo prima. Poi dietro c'è il calendaretto degli angioletti. Questo è uno scatolo dove io metto tutte le bollette che devo pagare. Naturalmente, sempre perché ho visto tutte queste organizzazioni, perciò è così ordinato. E quindi diciamo che mi piace come sto sistemando. Quindi questi due sono i top. Poi, un'altra cosa top che mi trovo, mi sono trovata tantissimo, sono questi rossetti della Color Trend. Ma vi dico, non mi sarei mai aspettata che con alcuni prodotti di Avon io mi sarei trovata bene. Ragazze, sapete come mi dispiace che non posso fare Avon più. È strano perché sono ancora attiva. Infatti non lo so se qualche ragazza che fa Avon mi vuoi pure rispondere, perché la mia responsabile, cioè niente, si è venuta tre volte per farmi solo iscrivere. Poi non l'ho rivista più. Pur questo fatto che a volte non ti seguono tanto tanto bene, ma chissà perché. E quindi è strano perché sono andata nel sito, io ho il catalogo 18 e sono ancora attiva. E' strano che io ci sia ancora nel sito. Comunque vi ho detto che siccome lo sta facendo anche mia cugina, io il catalogo ve lo girerò comunque, perché mi piace molto far vedere il catalogo dell'Avon, di farlo vedere. Poi a me mi piaceva proprio questo fatto pure di far vedere l'album. E quindi diciamo che poi aiuto lei, perché comunque io ce l'avevo i clienti, il mio problema è che non potevo anticipare i soldi. Lei lo può fare e quindi io quando mi piace qualche cosa dico me lo prendo da lei e la stessa cosa dei miei clienti, quelle che tenevo prima, ho detto non ti preoccupare, non lo faccio io, non lo faccio io più, però lo fa lei, però sempre tramite di me in poche parole. Quindi vi girerò comunque anche il video del catalogo Avon. Ve lo giro il video. Lei mi dà il catalogo e io faccio il video. E quindi con questi mi sono trovata molto bene. Allora, questi rossetti, io ce l'ho uno rosso, ho questo rosa e lo tengo arancione. Ma veramente non mi sarei mai aspettata. Cioè, allora, idratano le labbra. Cioè, le labbra, io soffro molto, soprattutto con il freddo, cioè che le labbra sono molto screpolate. Sono molto screpolate e quindi si fanno tipo, cioè, si seccano. Questo rossetto non ve le fa seccare. Cioè, veramente mi trovo benissimo e questo è un prodotto che riacquisterò sicuramente, dell'Avon. Che mi sono trovata bene, mi piacciono, non si seccano le labbra e mi piacciono tantissimo. Guardate, poi sono dei colori bellissimi. Poi, per quanto riguarda invece... Ah, poi tengo un altro prodotto top. Allora, questa matita della Yves Rocher. Allora, io queste matite, le doppie, le adoro. Allora, sostituiscono completamente un ombretto proprio. Hanno una scrivenza esagerata. Durano dalla mattina fino alla sera. Cioè, basta che si mette una linea di questa matita. Sembra proprio un ombretto. Non c'è bisogno di mettere un altro ombretto. Ti dura tutto il giorno. Queste matite della Yves Rocher le consiglio. Sono molto buone. Durano molto di più di quelle lì più sottili. E queste qui pure mi sono trovata tantissimo. Poi, per quanto riguarda invece i flop. Allora, come flop dobbiamo... Allora, vi devo... devo dire questo gel viso della Cien. Questo qui me l'ha regalato Nadia. Tutti i prodotti che voi vedete Cien. Ciao Nadia. È Nadia che me li manda. Allora, questo qua non è che non mi trovo. Ed è stato recensito lo stesso gel anche da Antonella stessa. Che non si è trovata. E ha parlato pure lei che non... Cioè, a me non è che non mi trovo. Perché comunque è un gel. È un gel. Se lo dovessi riacquistare non lo acquisterei. Soltanto per chi... È forte il profumo. Cioè, sembra che sta di pino silvestre. A me i profumi troppo forti forti. Non mi danno fastidio. E quindi... Allora sta quasi per finire. Perché poi è peccato. Comunque è un gel. Però se lo dovessi ricomprare non lo riacquisterei. Mi trovo molto di più con quello dell'Hydra Vegetal e dell'Ivrushy. Che mi sto trovando davvero bene. Questo solo per l'odore forte. Che mi dà fastidio. Però comunque si può usare. E quindi questo qua lo metto nei flop. Un altro prodotto flop, purtroppo, è questo. Questo è stato recensito bene da parecchie ragazze. E purtroppo io non mi riesco a trovare. Perché quando lo metto fa... Diciamo che lo uso pure poco il primer. Io non l'ho mai usato il primer. In poche parole è come se va sulle pieghette. Forse chissà me ne metto molto. Vabbè, naturalmente lo consumerò. Lo consumo, ma se lo devo riacquistare sono proprio io che non sono abituata a mettere il primer. Non l'ho mai usato. Quindi se lo dovessi riacquistare questo non lo acquisterei. Non lo riacquisterei io. Allora, un altro prodotto che, purtroppo, non lo so, è lì. Sono rimasta troppo male. Sono le candele della Welk Candy. Almeno questo odore qua. Allora, io ora la tengo sigillata. La tengo chiusa. Non avete idea all'odore che ci sta qua vicino. Un odore... Cioè, sono troppo troppo forti. Sono bellissime. Però, siccome a me non piacciono questi profumi troppo forti, se non mi sbaglio, questa ce l'ha pure Antonella. Cioè, forse ne metto molto. Io metto uno schizzino, uno spicco di qui, ma non si può sentire proprio. A meno che forse non hai casa grande, perché forse io c'ho la casa piccolina. Allora mi si... c'è, è troppo troppo forte. Io dopo due, tre minuti devo spegnere un pezzettino che ho messo dentro al... come si chiama? Il brucio essenze. Ma non lo posso tenere proprio. E quindi, naturalmente, non lo so, la metà la mando a qualcuno. Però la voglio usare, perché è peccato. Meno male che ho comprato le tart. Invece, a differenza di queste qui, che sono proprio forti, comunque, io non ce la faccio a sentire questi profumi forti, Davide mi prese, non so dove andò, al di che, amola, non mi ricordo, e mi prese la tindra. E sinceramente, con queste, che costano pure più poco, non mi ricordo quando l'ha pagata, si sente quell'odore normale. Questa, per esempio, al melon, a mela, ai frutti, agli agrumi, ma è stupenda. Cioè, io la posso tenere pure vicino al computer, non ti dà fastidio, si sente quell'odore leggero. A me queste mi piacciono moltissimo di candele, ma costano pure più poco. E quindi, un poco, sono rimasta un po' male con le... con questi qui, sono troppo forti, ma sono belle. Ma sono io, che ho casa troppo piccola, perché è assurdo, devo tenere, con le finestre aperte, tre minuti, un profumo esagerato. Ora, sta aperta, così, e si è inprofumata tutto il soggiornino. Però, naturalmente, meno male che... meno male che... comunque, ho preso le tart. Poi, un altro prodotto top, purtroppo, è questo ombretto della Kiko. L'unico ombretto della Kiko che tengo. Questo qua lo comprai, perché andai a comprare delle cose anche a Nadia, che mi chiese il piacere se gliele compravo. Allora, a differenza degli ombretti suoi, che secondo me erano migliori, perché erano più scriventi, eccetera, questo qui lo trovai in offerta. E sinceramente, sono rimasta troppo, troppo, troppo male, perché... Allora, lo vedete com'è bello questo rosa? Però, sull'occhio non scrive. Allora, pure qua, vedete come si vede sul dito? Se io lo vado a mettere, ecco, per esempio, sulla palpebra, Allora, sul dito si vede. Quando lo vado a mettere sulla palpebra, non si vede più niente. Comunque, devi mettere non so quanto prodotto e quindi sono rimasta proprio male. L'unico ombretto che mi sono comprata è il 144 e non mi sono trovata. Nadia, fammi sapere quelli là che ti presi, che ti comprassi, quelli che ti ho mi hai fatto prendere, ma sono scriventi, perché così, evidentemente, quelli erano migliori di questi, perché questi sono matte, infatti, questi qua, invece i suoi forse erano più scriventi, penso che siano migliori quei suoi che ci presi. Va bene, ragazze, niente, questi sono i toppi e flop, spero che il video vi sia piaciuto, un bacio, Antonella, ciao tesoro, ti voglio un sacco di bene, andate a vedere pure il video suo, a me mi piace tantissimo come recensisce i prodotti Antonella, infatti bello, mi piace proprio sentire i suoi video, tutte le recensioni che fa, perché proprio da pure dei bei consigli, speriamo infatti che trovo l'ammorbidente che aveva recensito, quindi, un bacio, Antonella, ciao ragazze, vi mando un bacio a tutti e al prossimo video.